ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di self publishing e book marketing su credi nella tua storia io sono michela mitrani oggi parliamo di come cerchia cercare di ripristinare il nostro account amazon se viene chiuso e prima di iniziare vi ricordo che se siete interessati a esplorare un pochino meglio i temi di self publishing e book marketing ho scritto una guida su proprio questi temi che potete trovare cliccando il primo link nella descrizione di questo video la guida gratuita se siete interessati a questi argomenti mi raccomando scaricate il libro volevo anche dirvi che questo è il secondo di una serie di video dedicati alla chiusura potenziale del nostro account amazon nel primo video ho parlato di alcune cose importanti che è fondamentale capire riguardo al vostro account amazon e qual è la differenza se viene sospeso o se viene terminato quali sono i motivi che possono portare il team di amazon a chiudere il vostro account che di p e quali sono dei consigli a che potete utilizzare per evitare che questo succeda quindi andate a guardare quel video se ve lo siete perso è importante a questo punto che sottolinei che i consigli che darò potrebbero non funzionare o non funzionare il cento per cento delle volte e perché ripristinare un account che di p è una faccenda molte volte delicata che dipende da molti fattori infatti amazon ha sempre l'ultima parola e come scrivo anche in questo disclaimer queste cose di cui parlo e consigli qui vi do possono essere utili possono possono darvi una via ad a seguire però non pretendo che siano infallibili o che sia utilizzati anche passo passo possono fare davvero una differenza perché alla fin fine è amazon a scegliere che cosa fare del vostro account questa amazon è la piattaforma che è loro gli appartiene quindi alla fin fine l'ultima parola spetta loro seconda cosa come dicevo anche nel primo video è consigliato è utile guardare le esperienze di altri autori che si sono trovate a affrontare questo problema della sospensione o della terminazione quindi io vi invito andarvi a guardare questi altri video ce ne sono tantissimi su youtube e molte volte queste esperienze possono aiutarvi nel vostro caso specifico a capire qual è il problema e come risolverlo quindi fate i compiti a casa fate le vostre ricerche non prendete quello che vi dirò in questo video per l'orocolato state sempre attenti quando dovete fare un'azione che può infronzare il vostro account che dp sapendo che dovete agire avendo tutte le informazioni disponibili del caso ora cosa fare se il vostro account vi ha nel sospeso o terminato quelli che seguiranno sono alcuni consigli utili e spero che possono ovviamente aiutarvi a ripristinare il vostro account o a mettervi diciamo nella parte giusta con il team di amazon numero uno controllate la casella email associata con il vostro account chi dp questa è una cosa che sembra ovvia e importante ma volti autori non è per molti avori non è così il vostro account amazon ovviamente che dp è associato a una email voi dovete guardarla questa email è molto spesso perché se c'è un messaggio che il team amazon vi vuole mandare lo farà nella maggior parte dei casi utilizzando questa email che voi avete dato quindi se c'è un problema amazon ve lo farà sapere via questa email è una cosa importante da ricordare anche che queste email di avvertimento quando c'è qualcosa che voi avete fatto con il vostro account che non va bene di solito hanno anche un tempo limite che dovete rispettare e se non leggete le mail in tempo potreste superare questa deadline questo tempo limite e il problema ovviamente potrebbe peggiorare quindi dovete guardare questa casella email frequentemente e dovete controllare se nel caso vi state aspettando anche un email da amazon perché notate che non riuscite ad accedere più al vostro account che dp dovete controllare anche la spam perché potrebbe essere andato anche nella casella ovviamente spam quindi fate attenzione alla vostra email associata all'account che dp controllatela molto spesso secondo consiglio agite immediatamente se ricevete un avviso o richiesta dal team amazon spesso come dicevo le comunicazioni verranno date via email quando vi vorranno avvisare di un potenziale effrazione che avete fatto se ricevete queste email non dovete ignorarle rispondete prontamente vi consiglio entro poche ore massimo entro 24 ore e questo è il modo migliore per risolvere o cercare di risolvere il problema il più in fretta possibile un'altra cosa importante da considerare in una occasione del genere un autore ovviamente che ha moltissime cose su questo account i suoi libri le sue royalties vengono da questo account se viene chiuso da un giorno all'altro o se viene sospeso ovviamente la reazione di un autore è panico quindi questo consiglio è importante per ricordarti che non dovete perdere la calma o la speranza mentre state gestendo questa crisi è risaputo che purtroppo molto spesso può essere frustrante interagire con l'assistenza e il team di amazon perché non sapete con quale persona avrete a che fare può essere una persona molto brava che sa quello che sta facendo potrebbe essere una persona che non sa esattamente quello che sta facendo quindi il giusto rappresentante può fare la differenza però se non ricevete una risposta che ha davvero senso oppure ricevete una risposta magari a una domanda che non avete fatto dovete continuare a comunicare con il team amazon perché è possibile che comunque alla fine vi venga dato un altro rappresentante dell'assistenza e questo qui può essere magari più utile del primo o del secondo che vi è stato dato dovete fare attenzione a quello che fate perché è importante che manteniate sempre viva questa linea di comunicazione indipendentemente dalla persona con cui state parlando ciò detto non è che dovete inviare email ogni minuto al team amazon se non avete la risposta che volevate o se il vostro account continua a essere sospeso o terminato infatti per quanto possa essere difficile trovarsi in una situazione di questo tipo quindi non avere più il controllo dei vostri libri magari ci sono centinaia o migliaia di euro in gioco è facile farsi prendere dal panico ovviamente perdere la calma e magari dire o fare qualcosa che non va bene quindi armatemi di pazienza e continuate a dialogare con l'assistenza quarto consiglio che questo sembra banale però è importante ricordarlo rimanete sempre gentili e cordiali infatti immaginate di lavorare come una di queste persone che ricevono magari dozzine o centinaia di comunicazioni a settimana e immaginatevi di parlare con una persona ovviamente irragionevole magari che vi offende sareste voi disposti ad aiutarla questa persona non penso davvero ringraziate sempre le persone che lavorano per amazon perché non è che è colpa loro se il vostro account viene sospeso a volte queste decisioni vengono fatte da un bot capito neanche da una persona quindi state attenti a quello che dite nelle mail perché non è davvero colpa loro quello che è successo al vostro account voi dovete soltanto incoraggiare una comunicazione professionale con quell'altra persona e cercare di risolvere il problema con tutta probabilità alla fine questo vostro messaggio di richieste ad aiuto incontrerà la persona giusta e a questo punto potrete cominciare a risolvere il problema quindi non fatevi prendere dal panico potrebbe essere che la prima persona con cui parlate non sarà la persona che risolve il vostro problema non perdetevi d'animo rimanete gentili e cordiali consiglio numero cinque provate ad offrire soluzione o a dare suggerimenti cercate sempre di apparire desiderosi di aiutare di te c'è qualcosa che posso fare c'è qualcosa che ho fatto sbagliato magari per evitare di rifarlo in futuro se voi poi sapete qual è il problema perché magari avete fatto qualcosa di sbagliato e ve ne accorgete inviate un email all'assistenza clienti e assicuratevi di offrire una potenziale soluzione a questo problema in questo modo ancora una volta vi mostrate desiderosi di risolvere questo problema che avete creato e dite al team amazon che avete capito cosa avete fatto di sbagliato e che non lo farete più il futuro un approccio attivo può essere utile per ripristinare il vostro account in poco tempo e mostrare ovviamente la vostra buona fede è importante per far capire alla persona che sta dall'altra parte che l'account è importante ma anche che voi avete capito qual è il problema e siete disposti a non commettere l'errore in futuro un'altra cosa che purtroppo molti autori fanno spesso è accusare amazon o il team che dp sui social ora questa cosa non è molto professionale ma non vi servirà a generare a migliorare molto la situazione perché molto semplicemente la maggior parte delle volte ignorano nei social un gigante come amazon talmente tante interazioni al giorno che probabilmente il vostro messaggio non verrà ricevuto e se viene ricevuto magari viene ricevuto ignorato oppure vi danno una risposta preconfezionata utilizzate le mail che vi stanno mandando come vostro contatto principale e non perdete tempo a inseguire amazon sui social consiglio numero 7 non state a guardare altri autori c'è una cosa importante da considerare potrebbe essere che voi vi guardate intorno e cominciate a vedere che altri autori stanno facendo delle cose che non dovrebbero fare e amazon gliele lascia passare non puntate il dito non fatelo mai non è professionale e non aiuta a risolvere il vostro problema quindi ricordatevi focalizzatevi su quello che non funziona per voi non perdete tempo a accusare altri autori di qualcosa che stanno facendo magari male perché non vi aiuterà a ricristinare il vostro account consiglio numero 8 rivolgetevi all'alleanza degli autori indipendenti se nessuna delle cose che avete fatto in passato o nei primi consigli se nessuna di queste cose ha funzionato e siete convinti comunque di essere nel giusto ovvero che amazon ha chiuso o sospeso il vostro account per un motivo che non dovrebbe esistere potete contattare questa associazione che è chiamata alliance of independent authors per cercare di risolvere questo problema questa è un'organizzazione che ha lo scopo di proteggere persone come noi autori indipendenti le situazioni come questa perché possono capitare sono capitate molte volte in passato ed è anche un ottimo modo per convolgere altri autori e per capire se magari ci sono delle cose che potete fare quindi potete anche chiedere e avere delle chiedere fare dei quesiti avere delle risposte da questo punto di vista questa ovviamente è una soluzione che ha più probabilità di funzionare se siete nel giusto quindi se sapete che non avete sbagliato ma c'è qualcosa che amazon ha fatto loro nel loro controllo hanno sbagliato la loro valutazione vi hanno chiuso oppure sospeso il vostro account per sbaglio consiglio numero 9 ultimo consiglio da questo punto di vista rivolgetevi a un avvocato esperto in online entrepreneurship se tutto il resto dovesse fallire e voi credete continuate a credere di essere nel giusto un avvocato potrebbe essere l'ultima soluzione che vi rimane per ripristinare il vostro account KDP ovviamente è imprevedibile questa cosa qui però molte volte non sarà necessario andare a tribunale magari una lettera o una dichiarazione però formale proveniente da un professionista da questo punto di vista costringerà amazon a prendere il vostro caso un pochino più seriamente però tenete sempre presente che dovete essere nel giusto perché se avete violato anche non sapendolo le direttive di KDP sarà molto più difficile che il vostro account che è stato magari chiuso venga riaperto ultima raccomandazione anche se siete nel giusto anche se poi il vostro account dopo settimane o mesi viene riaperto dovete rendervi conto che un'opzione dell'avvocato può costare anche tanto quindi dovete capire ne vale la pena alla fin fine perché se non ne vale la pena e costa troppo dovete ovviamente avere le vostre considerazioni e dovete ovviamente anche importante considerare quali sono le ripercussioni sul vostro business se spendete centinaia o migliaia di euro per cercare di riaprire il vostro account ne vale la pena questa è una domanda alla quale potete rispondere soltanto voi ora cosa fare se nulla di tutto questo funziona avete provato in tutti i modi avete chiesto aiuto vi siete informati magari avete provato anche con l'avvocato non c'è niente da fare amazon è inamovibile siete finiti la vostra carriera di autori autori indipendenti è conclusa la risposta è no è un solido potente no ci sono altre cose che voi dovete considerare la vostra carriera non inizia e finisce con amazon e la seconda parte di questa presentazione vuole cercare di esserne una prova ci sono delle alternative che voi dovete considerare come autori ibridi autori anche di case editrici ma soprattutto autori indipendenti perché avete più possibilità di gestire il vostro business liberamente anche se foste bannati da amazon in maniera irrevocabile ci sono delle altre opzioni che potete considerare qui nel listo 3 la prima è creare una nuova attività e queste le andremo a identificare esplorare un pochino meglio dopo seconda coltivare il vostro pubblico in maniera indipendente via newsletter terza opzione pubblicare wide ovvero in tutti i negozi andiamo a parlare un pochino più nel dettaglio di queste alternative alternativa numero 1 create una nuova attività ne ho parlato e ho accennato un pochino nella prima parte di questa serie di video sulla chiusura di account amazon che in realtà voi potreste avere un account personale e se avete un'azienda se siete un imprenditore anche un altro account per quell'azienda e molti autori anche fanno così se si crea un nuovo account che dp dovete sapere che è personale e rimettete ovviamente i vostri libri su quell'account è molto probabile che amazon lo chiuda però se voi aprite un'attività con un nuovo numero identificativo questa cosa è diversa non siete più quella persona ma che stare girando il sistema è proprio un'altra entità con un altro numero riconoscitivo paga le tasse ma ha un altro tipo di sfera di influenza non siete più quella persona con cui amazon ha dei problemi si avere un'attività separata in questo modo si può teoricamente creare un nuovo account che dp senza violare le regole di amazon però a questo punto è sconsigliato mettere i vecchi libri del vecchio account che è stato sospeso in questo nuovo account perché amazon potrebbe accorgersene e questo vi creerebbe ovviamente dei problemi se create un nuovo account perché create una nuova attività voi ricominciate da zero però ricominciate da zero con un foglio bianco quindi avete una nuova possibilità di ricominciare la vostra attività su amazon da zero ma ricominciate e in questo modo imparando ovviamente dagli errori che avete commesso in passato seconda possibilità coltivare il vostro pubblico io qui dovrei aggiungere privatamente la vostra email list è il più importante strumento di marketing a vostra disposizione e io se siete interessati vi segnalo che ho scritto un libro su questo tema che si chiama destinazione mailing list trovate il link nella descrizione di questo video se siete interessati a esplorare meglio questo tema perché è davvero la vostra mailing list un asset che è importante se doveste voi essere manati da amazon potreste continuare ad avere un rapporto privilegiato con i vostri elettori perché nella mailing list vi appartiene è vostra non può essere sospesa mentre su amazon e altri store voi dipendete dall'altra piattaforma possono decidere di che cacciarvi senza che voi ovviamente potete fare niente non è la stessa cosa con la vostra mailing list perché vi appartiene quindi io vi incoraggio sempre a coltivare questa risorsa e imparare come farlo è importante per la vostra carriera di autori indipendenti nel lungo periodo cosa succederebbe infatti se vostro account su amazon venisse chiuso o sospeso senza possibilità di appello ma anche che cosa succederebbe se improvvisamente magari per qualche fattore che non può essere previsto le vostre vendite su amazon crolla oppure se amazon scompare queste sono tutte cose possibili non impossibili sono possibili potrebbero accadere magari ci vogliono dei giorni settimane mesi o anni ma possono accadere in quel caso voi cosa fate non dovete non potete dipendere troppo da una piattaforma che sia amazon o un qualsiasi altro rimeditore supponendo che non siate esclusivi con amazon quindi che non abbiate scritto i vostri libri su amazon che dp select potreste anche potenzialmente vendere i vostri libri direttamente sul vostro sito ovviamente ci vorrà più tempo per costruire un audience sarà difficile perché dovete portare il traffico sul vostro sito però come strategia di lungo termine è viabile è potenzialmente utile e vale la pena da di considerare pubblicare wide wide è una parola che si usa in anglo sassolandia per intendere vari negozi online ma anche in vari formati avere diversi stream of revenue non fare l'errore ortodosso diciamo così di mettere tutte le uova in un paniere se non riuscite non potete più pubblicare su amazon è il momento di iniziare a promuovere i vostri libri sulle altre piattaforme ce ne sono tantissime apple google play bonanza nobles draft to digital covo sono tantissime e io sono un sostenitore ovviamente di cercare di andare wide perché è importante che abbiate diversi stream of revenue diverse modi di avere royalty e che non dipendiate soltanto da una fonte ora è ovvio che questi negozi o questi aggregator hanno effetti di mercato molto più piccole rispetto ad amazon specialmente negli stati uniti però posso assicurarvi che se mettete il tempo se mettete la convinzione se volete davvero costruire un pubblico internazionale molti piattaforme questa di andare wide potrebbe essere l'alternativa migliore per la vostra carriera nel lungo periodo non sarà facile ma è sicuramente un'alternativa a lungo termine che raccomando se siete seri come autori indipendenti e volete diversificare i vostri stream of revenues ora da questo punto di vista io voglio segnalarvi che se siete interessati a esplorare meglio questo tema di pubblicare in esclusiva con amazon che dp o wide ho creato un video che parla proprio di questo vi spiega la differenza tra esclusività che dp select e wide quali sono i pregi e difetti di entrambe le alternative come fare a diversificare utilizzando l'opzione wide il quale secondo me è l'opzione migliore ma anche quella che credo sia un'opzione utile per autori indipendenti interessati a diversificare il loro portfolio quindi se siete interessati vi invito a andare a vedere questo video che trovate nel mio canale youtube qui su credi nella tua storia il consiglio che vi do alla fine di questa presentazione è lo stesso identico che vi ho dato nella presentazione precedente diversificate dipendere soltanto da amazon non è una buona strategia a lungo termine e potrebbe impedirvi di trovare dei mercati pubblici ai quali amazon non arriva neanche perché amazon non è dappertutto è molto forte in alcune paesi ma in alcuni paesi è molto debole o a volte non è neanche presente quindi vi consiglio di fare molta attenzione a questa scelta e di cercare di capire qual è l'opzione migliore per il vostro caso specifico non ascoltate necessariamente necessariamente le altre persone una cosa che funziona per un autore che ha messo tutti quanti i suoi libri su KDP a select potrebbe non essere la scelta giusta per voi diversificate cercate in tutti i modi di essere a prova di una bomba di essere a prova di un evento catastrofico come la chiusura del vostro account amazon di non do per dipendere 100 per cento da questo negozio se avete domande mi raccomando fatemi sapere nella sezione commenti se avete dei consigli se qualcosa di quello di cui abbiamo parlato vi è successo condividetelo con gli spettatori di credo nella tua storia sono convinto che condividere ovviamente opinioni sia utile e per capire che cosa può funzionare o non funzionare dal punto di vista di amazon account e in generale buone pratiche che autori possono seguire se ovviamente le condividiamo gli uni con gli altri a questo punto vi auguro buona fortuna spero che questa presentazione vi sia stata utile se lo è stato ricordatevi di iscrivervi a questo canale youtube per avere una segnalazione dalla piattaforma quando un nuovo video di bookmarketing scrittura o self publishing verrà pubblicato e rinnovo il mio consiglio a scaricare la guida autoeditoria digitale se siete interessati a esplorare meglio i temi di autoeditoria bookmarketing trovate la guida nel primissimo link nella descrizione di questo video grazie per avermi seguito ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao